Lasciamo il pub per un attimo e andiamo a trovare Rajan Tambehalli. Conosce bene questa realtà, è vicepresidente dell'Associazione Svizzera dei Quiz. Lui stesso crea domande per quiz, organizza eventi per ditte, pub e bar. C'è un interesse crescente per queste serate quiz. Sempre più persone partecipano, stanno diventando popolari, c'è gente di tutte le età, studenti, pensionati, lavoratori, expat svizzeri. Vanno alle serate per testare le loro conoscenze fra amici, per mangiare e bere assieme, per interagire. Le domande dei quiz creano infatti conversazione all'interno del gruppo. A Zurigo ci sono ormai 8-9 serate quiz ogni settimana.